Vi lascio in buona compagnia, c'è Romeo con un ospite speciale e quindi c'è di nuovo l'omaggio a questo nobilissimo strumento che è la Fisarmonica. Vai Romeo! Eccoci qua! Caro genio, abbiamo un ospite, quello sempre speciale, legato alla Fisarmonica, allo staff Copperfisa, se possiamo dire così, eh? Sì, sì, sì. Allora, lui viene da molto lontano, viene dalla fantastica Sicilia. In Sicilia, diciamoli esattamente da dove vieni? Provincia di Enna, Nicosia. Nicosia! Allora, lui è Giuseppe Spinelli, Fisarmonicista che è specializzato e amante della musica del baldo. Bannoliscio, più nabili, hai altri geni che tu ami? Baldo, bari e te. Bari e te, bari e te, il genere particolare, un più legato per gli amici appassionati su jazz, su swing. Ecco, allora, il nostro Giuseppe, allora, so che da poco sei dovuto trovarci al nord. Eh sì. Per, pare, sei entrato per parte di una nuova orchestra, è importantissima. Sì, insieme all'orchestra Tonia Todisco, del Piemonte, quindi... Facciamo un saluto? Sì, salutiamo tutta l'orchestra, i amanti e i fans dell'orchestra che ci vengono a seguire in tutti gli appuntamenti del nostro calendario. Eccoci, allora, dopo parleremo ancora del nostro grande artista, il nostro Giuseppe, ma il prossimo brano che ci presenti? è un brano tratto dalla mia seconda incisione, una composizione mia, dal titolo Pazzo Liscio. Signori per voi, Giuseppe Spinelli. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. onnello per voi, Giuseppe Spinelli. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.